Vi racconterò la storia di un bambino e quando avrei voluto qualcuno a lui vicino che la mano gli stringesse oppure gli parlasse capisse le paure in una vita oscura e vi racconterò che nessuno c'è mai stato a curare le ferite nei momenti disperati dove l'unica certezza era sentirsi solo in un mondo sconosciuto ma colmo di paura se un giorno il sole si alzerà tutto diverso apparirà e la sua luce spargerà spazzando via l'oscurità e forte un urlo si alzerà il grido della libertà e un altro uomo nascerà finché una vita ci sarà e vi racconterò del tempo che è passato di ciò che avrei voluto e quello che c'è stato dei primi desideri e quanta strada ho fatto provando a farli miei nel tempo che è volato e vi racconterò dei grandi desideri svaniti dentro al buio di un'immagine confusa mescolata a tante altre al punto che non sai se quel respiro è il tuo o un'immaginazione se un giorno il sole si alzerà tutto diverso apparirà e la sua luce spargerà passando via l'oscurità e forte un urlo si alzerà il grido della libertà e un altro uomo nascerà finché una vita ci sarà a Grazie a tutti Grazie a tutti